Che cazzo? C'è Giody in chat? Che cazzo vuoi, Giody? Vattene un po' a fanculo. Coglione, ti ho abitato al pranzo e mi hai detto di no. No, io non vengo perché figa, te non sei di Milano, non conosci Grambau. C'era Giody ieri sera, lo sai? C'era Giody qua. Eh, lo so, ho visto. Ecco, ti devo dire. Mi ha detto... Ma non mi sono permesso di rispondere. Mi ha detto non mi sono iscritto al Patreon di Marta. Ma non è vero. Sì, perché mi sembrava irrispettoso questa cosa nei tuoi confronti, Nanni. C'è tanto Mario. No, no Marta, ieri l'ha detto lui che sarebbe venuto e non mi sto inventando nulla. Ah, ok Giglio. Allora, se ce lo dici te e non ci siamo organizzati noi in privato per ospitare una persona a casa mia dove abito io, sicuramente verrà.